Un turismo sostenibile, responsabile e rispettoso di identità e patrimoni per valorizzare e confermare la Toscana come una delle mete maggiormente richieste. Questa è la base del documento strategico operativo Destinazione Toscana 2020, presentato in un convegno al Teatro della Compagnia a Firenze da Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica e dall'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo. Siamo convinti che questo settore debba mettere in eccellenza, in evidenza una filiera che fa sistema in Toscana e che può consentirci di raccontarla, raccontarla in tutte le sue eccellenze, raccontare le sue tipicità, mettere in risalto e mettere a valore tutte le opportunità che il nostro territorio può offrire. Lo scopo di Destinazione Toscana 2020 è quello di individuare linee strategiche quadriennali per permettere alla Toscana di incrementare i flussi turistici. Dopo un 2016 da record, anche il 2017 si preannuncia roseo per il turismo in Toscana e per l'estate già si prevede un più 2% di presenze rispetto allo scorso anno. Protagonisti di questa crescita i turisti stranieri che aumentano del 2,9%, non solo mare e città d'arte e la scommessa sono le nuove rotte del turismo. Ma crescono le altre nicche del turismo, quindi il turismo avventura, il turismo naturalistico, il turismo in bici, tante alternative per scoprire anche angoli nascosti della nostra regione, ecco la prossima estate ci saranno tante occasioni per scoprirla al meglio. Durante il convegno Destinazione Toscana 2020 è stato presentato in anteprima il nuovo sito web Visit Toscani, un progetto nato per rilanciare un'identità digitale del turismo in Toscana. Non basta essere circondata da un patrimonio paesaggistico, turistico, culturale che tutto il mondo ci invidia, non basta essere circondati dalla bellezza se non la si sa raccontare. VisitToscani.com ha proprio questo obiettivo. Grazie. Grazie.